Amami, sentami, straccami, applicami, e dopo stringimi, dammi l'attrezzo e tendimi, oh yeah! Prendimi, con le tue labbra carezzami, oh Enzo, non riconosca di una gettuti, e spiungami, spostami tutte le feri di, oh yeah! Apriami, picchami solo negli angoli, oh yeah! Brivido, non indistinguo quei datteri, oh yeah! Brivido, non indistinguo quei datteri, oh yeah! Basta, vai insomma! Eh no, no no, eh no! Basta lo dico io, basta lo dico io! Giosi, tu sei convinta di cantare, non canti mica, qui non ci univa altro che il sesso, adesso è finita, siamo in trasmissione! Teresa, tu sei convinta di essere la figlia di Polanca! Ma cosa c'entra Polanca? C'entra Polanca, hai detto che hai i genitori rumeni! Sì! Quindi, ecco, Polanca c'entra! Non è vero! Questo cos'è? Pensate che questo qui doveva essere la punta di diamante della trasmissione! Figuratevi il resto, una roba brutta! Caminare se mette caminare, eh! Sì! Metri e metri! Grazie! Salutare Andrea! Deu andare molto a dirò! Ciao! Ciao!